carlo fase 2 anche per il teatro per gli artisti per coloro che si impegnano per la cultura voi non avete proprio riaperto il teatro non avete fatto niente la fase 2 si può dire che è partita a livello teorico noi siamo ancora a casa siamo in attesa siamo ben consapevoli che sarà un'attesa molto lunga saremo gli ultimi a rientrare in campo sul posto di lavoro il teatro della maruca è chiuso resterà chiuso fino a quando non ci saranno delle sicurezze delle certezze sia per i lavoratori dello spettacolo sia per gli spettatori è impensabile pensare di riaprire mettendo a rischio la salute delle persone quindi lo spazio è molto piccolo non possiamo garantire il distanziamento sociale quali sono le prospettive per la riapertura e soprattutto per l'attività la disattenzione soltanto del governo o come al solito dobbiamo dire che per la cultura c'è poca attenzione anche in calabria nella nostra terra per quanto riguarda il territorio nazionale stiamo dialogando con diverse compagnie ma anche associazioni di categoria la tutela dei diritti stiamo ragionando su sul da farsi ma è molto difficile ecco ci sono tantissimi lavoratori dello spettacolo che in questi mesi per pochissime giornate non hanno raggiunto il famoso bonus delle 600 euro e sono in grave difficoltà quindi da qui vorrei rivolgere un appello non solo a livello nazionale ma anche a livello locale ecco alle istituzioni locali alla regione calabria direi di impegnare delle risorse velocemente al sostegno degli artisti delle compagnie di evitare di pensare ai grandi nomi che per quest'estate stanno già progettando i grandi monologhi i grandi reading no con l'attore dal grande nome ecco direi di investire queste risorse nel piccolo nei musici sui musicisti sugli artisti sulle piccole compagnie professionali che in questi anni hanno creato un patrimonio sociale umano sono andate a lavorare nelle periferie nelle scuole hanno costruito e l'appello chiaramente rivolto anche i dirigenti scolastici alle pro loco noi siamo a disposizione per dialogare per progettare su spazi all'aperto per degli eventi spettacolari per quest'estate però sappiamo che è molto difficile insomma chiedo di non abbandonarci di non lasciarci insomma morire siamo qui da dieci anni abbiamo fatto un lavoro immenso c'è un grande pubblico che ci segue che ci sta sostenendo da casa ogni ogni giorno quindi vorrei mandare un abbraccio virtuale a tutta la categoria dei lavoratori dello spettacolo ma anche dei lavoratori in genere quindi facciamo in modo di sostenerci qui sul posto un saluto